Al Cuore Giallo Blu siamo da Basketmania, da Daniele Fabri e staff, siamo qui con il coach Marco Crespi. Abbiamo approfittato per fargli due chiacchiere, l'occasione e la presentazione di un libro che si chiama Something Different. Quindi noi approfittiamo di fare due chiacchiere, ci facciamo raccontare anche un po' l'essenza di questo nuovo lavoro. Facciamo la parola a Marco. Il libro nasce uno dal piacere di scrivere, due dal fatto di aver vissuto una stagione particolare e quindi aver avuto la voglia di fermare tante immagini, tanti episodi per poterli rileggere e farli leggere. C'è tanto di Marco su questo libro, parte da Olimpia a Milano, dopo fa una serie di avventure lungo per l'Italia, un'esperienza a Siviglia, una grossa esperienza a Casale, Pesaro, Bologna, poi ovviamente quella che emotivamente ricordi tutte le esperienze senese con la finale Scudetto, un cameo al Bascogna e adesso tutto questo condensato in un racconto eccezionale di esperienza emotiva. Sì, penso che sia più che un libro di basket, sia un libro di vita, perché la mia vita è il basket e come vivo il basket e come voglio vivere la vita. Marco, oltre a fare il coach, e lo sappiamo tutti, questo è il fare l'elenco delle cose, anche doti manageriali, ha sempre partecipato anche proprio alla costruzione diretta alla vita della società, come vedi, visto che sei giovanissimo a livello lavorativo, il tuo futuro immediato, visto tutto questo bagaglio anche di vittorie, noi ricordiamo sempre quelle da Piemontesi, l'esperienza a Bielle Casale, c'è un'altra realtà, adesso poi arriverò dopo, che Torino, magari pensi di chiudere il cerchio del Triunvirio Piemontesi? Bene, prima, non dipende da me, perché per poter avere degli incarichi ci deve essere qualcuno che ti chiama per darti un incarico, ma al di là di questo io credo per il mio prossimo passo cerco soltanto una situazione dove competenza e passione siano qualcosa a cui guardare e dove mi piacerebbe essere motore di formazione e non solo di un risultato. Anche prima, nell'intervista che poi vedremo più lunga e integrale della tua presentazione al libro, hai parlato di accogliere un progetto interessante, però il progetto, come sai, è una parola che vuol dire tutto e niente, non si è parlato né di soddisfazione economica né di forse lungimiranza o quanto del progetto. Quindi il progetto per te, che cos'è adesso veramente a conti fatti? Una programmazione che ti consente di lavorare nel tempo, degli obiettivi chiari? Penso che un progetto deve avere degli obiettivi. Penso che il primo passo sia stabilire degli obiettivi e poi, se si parla di un club, dopo aver stabilito obiettivi è scegliere persone e risorse per poter raggiungere questi obiettivi. Credo che questo è quello che si dovrebbe fare o meglio in qualsiasi circuito aziendale, penso sia la strada giusta. Vado più nel dettaglio, se ipoteticamente qualcuno dovesse proporti un'opportunità, tante ne avverrai che vaglierai, quanto margine di manovra vuoi avere tu nella scelta dello staff a livello proprio globale, inteso da tutto quello che riguarda la composizione della squadra e mettere evidentemente, presumo, conoscendoti, un po' anche molta voce in capitolo nella costruzione della squadra, oltre che dello staff? Io credo che non ci siano delle regole o quanto uno chiede. Io, come ho detto prima, ci siano degli obiettivi. Credo che tutte le persone che sono all'interno di un gruppo di lavoro, staff tecnico, giocatori, chi vive vicino alla squadra, deve avere delle caratteristiche che chi è proprietario devono piacere per qualità, competenza, passione. Io credo che se pongo delle scelte è perché alla fine siano scelte sempre aziendaliste, non sono scelte mai personali. Siamo a Torino, c'è gente che pressa qui perché sei amato e conosciuto, ovviamente, quindi non rubiamo tempo a nessuno, però ti faccio una domanda localizzata. Se hai conoscenza di cosa sta succedendo a Torino in questo momento, se me lo vuoi dire o no, se sei stato contattato, ci sono le idee di poter lavorare anche qua, e cosa ne pensi tu da esterno, se hai una conoscenza solo esterna, di cosa sta nascendo, parliamo della PMS? Penso, quello che succede a Torino, basta guardare la classifica di Lega 2, c'è una squadra che per il secondo anno consecutivo tenta di andare in Serie A, magari si mette troppo obbligo di dover andare in Serie A, questo come piccola cosa anche attraverso le scelte, e questo è, e so, posso sapere non tante cose più, per quanto mi riguarda penso che si può rispondere in due modi, o politicamente corretto, nessuno mi ha chiamato, come è la verità, ma soprattutto siccome non sono politicamente corretto, dico quello che penso, credo che Torino potrebbe essere, questo lo penso, lo dico con tutti, sicuramente una squadra, una situazione dove si possa essere per i prossimi 10 anni nelle prime 8 squadre d'Italia. Noi prendiamo per buona questo augurio, speriamo di vedere Marco Crespi, tra l'altro posso farti una cosa un po' così simpatica, la storia delle cartelline spaccate in testa ai vice? No, innanzi, la storia delle cartelline, perché poi non sono cartelline, era la lavagnetta, la lavagnetta, c'è, penso sia di molti anni fa, tu hai detto prima che sono giovane, ma ormai, visto che c'è Maurizio Salvemi qua intorno, ci conosciamo da Todi 1985, sono passati esattamente 30 anni, quindi gli anni, penso che ci siano i gesti, e i gesti non sono una persona, penso che chi mi ha modo di riconoscere sa, forse questo capitò 30 anni fa, che magari non era assolutamente né la testa né il corpo di un assistente. D'accordo, ringraziamo per la disponibilità Marco Crespi e grazie, e in bocca al lupo per tutto, compreso anche questo avventura editoriale ovviamente. Ok, questo penso sia stato un divertimento, ovviamente i soldi vanno a una mamma che combatte ogni giorno per la qualità di vita di sua figlia, e penso che questo sia un grande esempio da seguire. Il libro lo facciamo vedere, visto che siamo anche per fare promozione, eccolo qua. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie a te.